Domanda, perché il lama Gangchen dice la tua pace interiore è il più bel regalo che puoi fare agli altri? Perché in una realtà dove tutto è uno l'evoluzione del simbolo si trasmette alla collettività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.